Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Ci troviamo qui, dentro la mia casetta, che sto guardando una carbonella che passa Sì, argomento di oggi Allora, prima di tutto, voglio dire che sono rimasto perplesso dai commenti di ieri Perché è stato... what the fuck Sì, mi spiego molto semplicemente Quando vi ho scritto nel messaggio di condivisione Cheat UTF Non era riguardante il diamante Non era neanche lontanamente riguardante la roba che ha scavato il cuore È riguardante l'energy manipulator L'energy manipulation Io non ho scritto, cosa? 9 stack di diamanti Cheat Non è la resta in piena Non è quello, cheat Quello è normale Non ce l'ho proprio pensato a quello Io ho pensato all'energy manipulation Che mi dava le enderper E poi 32 diamanti per l'enderper ci sta Perché, ripeto, le enderper sono molto... Ma le enderper sono infinitamente più rare di diamanti Cioè, il diamante è niente Il diamante è il ferro rispetto a l'enderper Vabbè, ma tralasciando sto discorso e Considerando il fatto che pensassi che stessi facendo notte Quindi stavo cercando di dormire Ma vabbè, fa niente Adesso mi è arrivato nella zona farm Perché devo piazzare planter e harvester E si... Ah, cacchio Cacchio, cacchio Dimentichavo una cosa importante Dimentichavo, dimentichavo Devo craftare il gold upgrade Non va Perché non va? Ah, devo fare la devanza di sirvi Ok, vai Ok, gold upgrade Vai E non va Manca la plastica Mi pare giusto Comunque, sì Un altro non ha scritto Ma perché non la chiami direttamente Craft 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 La serie craft Insomma, una roba del genere Sì, sono tutto d'accordo completamente Guarda Non ce la faccio più a craftare Sono diventato scemo Veramente Sono diventando veramente scemo Dove cacchio sta la roba? Mi sono perso Ah, e qui sta la gomma No, poi mi confondo Sto a casa che ho fatto rotonda È veramente un caos, ragazzi Mi sbaglio sempre di lezioni Perché ogni tanto mi sfanculo la visuale E non va di uno craft Perché non bastò C'è tutto Lingotti d'oro Comunque, dicevo Sto a rimpianto di materiale E Non era neanche lontanamente quello Cheat What the fuck Non avete capito niente Vabbè, fa niente Non è un problema Comunque Tornando al gioco Me ne ho dato subito a pentasto Sto planter veste Perché Non ce l'ho Beh Ah, sì Poi volevo farvi vedere Come ho bellito qui Guardate che carino che ho fatto Sotto marmo Questo è marmo Mesa 4 Nella crafting Che vengono i pilastri di marmo Mesa 4 E poi niente Il tetto così Le pareti E quello che è E poi abbiamo qui Le nostre due farm Che viaggiano Sino ho messo i due Non mi ricordo se ve lo fate vedere E adesso vado a mettere anche la terza Sempre con l'upgrade in gold Quindi so 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 Qua va l'harvester Qua Qui Per questo blocco qui Harvester E il planter va a 1 2 3 4 5 6 7 si lo so potrei dire queste cose non le fa rivedere si calcola i ragazzi è sempre belli far vedere perché almeno la gente ogni volta che fa una farm si rende conto delle dimensioni che può avere ok perfetto questa è la riempio di rubber sapling ci metto gli upgrade ci attacco le pipe tutto quanto non è importante questo invece ok ho collegato le pipe come al solito e manca solo il filtro di rubber sapling qua e ci siamo perfetto devo solo dare energia tornerò con le pipe d'energia e si vede un fra poco mamma mia effettivamente passo giugno in volta l'impresa dovrei mettiti pure le ferrovie sarebbe proprio ora che mettessi comunque un mezzo di trasporto veloce che mi porti fino laggiù che certo ora che c'è destra potrei fare delle cose carine non ancora però servono degli altri destra sapete quelli che ho fatto non bastano ma come niente ma niente per niente perché ovviamente sono separati di essere energie oggetti quindi con quelli che ho fatto dice porto giusto l'energia e poi gli oggetti eh 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 ci dovrebbero essere le ender chest però buh si nonni buh può darsi non ho idea guardate mettiamo qua questi cavi almeno parte sta farm di gomma perfetto eccoci qua la farm attiva niente di più che posso chiedere adesso ci riempiremo di gomma si ragazzi ho veramente bisogno di gomma più che altro volevo utilizzare quelle centrifughe che ho fatto e poi saranno le buttate effettivamente sono un po' inutili con la gomma almeno posso utilizzarle in qualche modo perché centrifughe la gomma e via poi vi faccio rivedere il ciclo quando comincerà arrivare la gomma seriamente oh cacchio di zombie molto bene una volta sistemata la farm di gomma ragazzi torniamo a casa vi faccio vedere un po' la gomma come sta lavorando non sta lavorando perché non ci sono celle giusto ricordate ragazzi se non rifornite di celle non partirà mai un cacchio non ho nemmeno le celle con un cacchio però ho l'aria ho l'aria compressa ragazzi l'aria compressa non è da sottovalutare perché non è da sottovalutare perché se io avessi un estrattore compressora le smelter complesso non vanno bene queste macchine ragazzi mi serve un estrattore se io avessi un estrattore 1 2 3 4 5 6 7 8 sto facendo un estrattore adesso allora prima di tutto pulisco un po' l'inventario che è un macello qua dentro si ragazzi stavo lavorando poi vi faccio vedere quello che ho fatto le piastre boh adesso non mi servono poi mi serviranno tanto facciamo un po' di ordine ah l'estrattore si dovrebbe craftare così se non sbaglio dovrebbe essere così ah machine frame circuito e 4 di questi in teoria beh è abbastanza facile da crafti un po' perfetto abbiamo fatto un automatic extracto ragazzi l'estrattore utilizzato nel modo giusto con le celle d'aria si se magari lo carica ok perfetto dovrebbe esatto ragazzi guardate comincia a svuotare le celle d'aria perché le celle d'aria sono piene semplicemente di aria ragazzi quella che abbiamo intorno proprio easy peasy messe dentro l'estrattore estrae l'aria estrae l'aria compressa e le fa diventare celle normale e quindi ricopriamo le celle usate sì ragazzi perché mi sembra che durante questo processo ora non vorrei dire una cacchiata perché io se ci fate caso prima non c'era la seconda centrifuga c'era solo questa questa centrifuga la gomma la gomma e esce quello lì che avevo fatto vedere l'altra volta che era questo schifo qua vedi esce il plant pool stick racing il carbon il carbonio e il metano queste stick racing possono essere ricentrifugate vi faccio vedere se trovare sai prendiamo un po al volo vediamo al volo volare carica su stupido gioco ok ricentrifugate vedete mi hanno 14 gomma compresse plant e altre plant pool a nomi d'aria compressa dopo aver fai niente è vero uscire dalla della box si dell'aria compressa per dettagli e quindi faccio un ciclo del genere che qui praticamente butto la l'albero di gomma lo centrifugo esce la resina la resina la mando qui sopra la ricentrifugo e tutto quanto alla fine va nella ceste ci fate caso mi sto uscendo tanto metano tanto carbonio tante compresse plant e tante plant ball queste plant ball le useremo poi ragazzi adesso non mi servono ci si può fare tanta energia ci si può fare il coso il metano non vorrei sbagliarmi e quello verde non è l'etanol è il metano mi pare vabbè comunque non è importante adesso faremo molto un po più avanti avantissimo perché roba avanzata allora intanto posso tutta questa roba qui perché adesso non mi serve la ceste della logistica è piena è possibile quanto pare sì ho preparato un po uno spiazzo per di là dove andrò a costruire guardate faccio vedere dove andrò a costruire questi futuri boiler vedete ho scavato tipo tipo di là ho fatto uno scavo tutto dritto è caduto dentro stupido ragno di merda volta devo sempre fare queste cose brutte poi si ho rimediato anche un bel po di apatite scavando per strada mentre passavo poi c'è tantissima altra ho trovato una valanga di apatite un numero indefinito di marmo un po di marmo l'ho usato quanto mi rimasto limestone io c'è una marea marmo non ve dico il cuore è attirato su di tutto e adesso devo cominciare a trattare alcune cose che mi serviranno per di là ad esempio prima di tutto primo che ho lasciato in suo speso vada a ritirare i tesseract è uno spedicolo sp ragazzi mi ha dimenticato al corriere la fuori che aspettava da due ore vabbè fa niente e destra che devo fare di energia quindi scrivo tesseract ah sì per quanto riguarda il bug che c'era quello lì della come cacchio si chiama lì questa qui l'energie cito cito population che che praticamente grasciava la nail l'ho sistemato cioè praticamente sto quale problema non l'ho sistemato semplicemente tolta la mod che dava problemi che era la l'extracell che fa gli electrum ragazzi serve un nuovo metallo gli electrum comunque dicevo l'extracell l'extracell è quella lì che aggiunge i dischi da 16 milioni di byte della della logistic della dell'app ed è una roba molto avanzata che magari ne me lo faccio poi se la faccio la rimetto se no vabbè ok la nuova liga che ci serve ragazzi è un misto tra oro e argento che si chiama electrum ce ne serve un pezzo sopra e un pezzo sotto quindi bastano quattro lingotti ne so fare ho già troppi oh ferma 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 esagerato come al solito esagerati ma mi pare ovvio sta cosa no ti pare che faccio la roba giusta quanto serve ok prendiamo un po' di redstone e mi è fatto veramente ragazzi ripeto a me mi ha fatto veramente rete quando ho letto che sei chippato la roba è stato molto divertente non pensavo pensaste su quello io io comunque parlavo dell'energy manipulation e che vi dirò la enderperle ci sta a quel prezzo anzi io la volevo ancora aumentare e dici cosa la enderperle 32 diamanti no la enderperle vale una stacca di diamanti in teoria la enderperle è il materiale più raro del gioco ragazzi arriverò a un certo punto che avrò talmente tanto bisogno di enderperle che butterò ogni singolo diamante che ho prodotto lì dentro la enderperle ripeto il materiale più raro del gioco e vi renderete conto no vabbè forse l'iridi è quasi a livello delle enderperle la questione è che le enderperle le puoi trovare dagli enderman per questo hanno la stessa utilità dell'iridio cioè la stessa rarità praticamente no la stessa utilità cioè se consumano allo stesso livello però l'iridio lo trovi in giro raramente oppure lo fai con la yumatter mentre le enderperle troppi dagli enderman quindi non so qual è più comodo vi dirò non devo ancora decidere questa cosa infatti i valori dell'iridio e delle enderperle devo ancora decidere probabilmente l'iridio varrà una volta e mezzo l'enderperle comunque devo ancora decidere che scusate mi sono perso un po' di volte faccio discorsi mi spagge tutto mi aperto che doveva led elettrum no perché sono strano io io sono scemo quando uno è scemo vedete perché io ovviamente a fare discorsi mi perdo perché non ci posso fare niente è coppia mia basta qua c'è altro silver e l'avenzio babbo ok ma ne bastano due fefefefe vabbè fa niente ok dovrei avere tutto credo proviamo e vola due energy tesseract craftati allora ragazzi l'energy tesseract prima di tutto non staccano l'inventario a differenza di nuovi tesseract nonostante non siano settati non staccano e in più e in più hanno uto singolo come vi ho sempre fatto vedere vi ho ripeto mille volte sono solo energia perché questi sono energia questi sono liquidi e questi sono oggetti non è tutto in uno come i nuovi tesseract che sono veramente inguardabili ragazzi a me non piacciono preferivo questi tripli e hanno una piccola particolarità che potrebbe crearmi i miei problemi anzi fra poco mi creerà problemi vi farò vedere subito come adesso non è importante la particolarità è che portano 100 mega joule a tic di limite lo vedrete beh è a me che me ne frega e ragazzi 100 mega joule a tic di limite è una brutta bestia perché vi farò vedere fra poco intanto metto a spaccare sta testa che ho trovato in giro e messo più il blaze rod perché mi servono con le blaze rod no no fermo uh li stavo spappolando le blaze rod ragazzi ci devo fare la come si chiama la ender chest si chiama non vorrei sbagliarmi si ender chest l'ender chest è quella della ender pair ah si ho spostato gli oggetti random l'ho messi qua assolutamente e dicevo oh la roba è un botto mazza manco render pair viene fuori ma sta a far serio com'è solo 32 perché non va perché si è parlato l'oro oh grazie d'animale vedi diamante ora che si è parlato ah oddio questi sono i config sono sicuro sono subito e eccomi si scusate cercando di sistemare il bug di cui parlavo che quello lì che crasciava la nei ho fatto config strane comunque settaggi particolari che hanno causato questo boom crash ok vai ok tre ender pair basta no alla fine me ne serve solo uno ma servono due perché devo craftare due di chest mi servono anche due pezzi di ossidiana che non so se ce n'è un pezzetto si basta un pezzetto ok aumentare il valore dell'ossidiana ragazzi non ha veramente senso perché alla fine ossidiana è comune con materiale quindi ci risparmia solo lo smino questo macchinario è molto carina questa cosa mi piace under chest mi serve anche della lana c'è una della lana ce la dovrei avere ammazzata un sacco di pecore e pieno di lana ragazzi ok e sì con questa mod dell'energy manipulation c'era il bug della lana che ovviamente io ho fissato ovvio che si poteva fare roba energia infinita con la lana ovviamente fissato e ho anche ridotto al 50 per cento la produzione così non ci sarà rischi di bug e cazate varie comunque diamo tutta la roba qua dentro sparisce tutta via via questo non c'è spazio non so veramente domenica togliamo si due mettiamo si due ecco veramente le ceste stanno esplodendo devo fare degli appoglietti a queste ceste dopo credere anche queste in diamante ed andare anche a mettere questo planter arvester aumentare la produzione di legno che alla fine non è molto importante sì ho aggiunto un altro disco da 4k qui l'ho riempito di carbonella e si ragazzi essendo senza connessioni non sapevo che fare ho sistemato un po le cose di messo qui ho ritoppato il pavimento se vede che ci sono delle differenze comunque roba banale che non era importante da registrare e ve lo sto dicendo adesso comunque sto facendo un rassunto quindi è ancora meglio e qui le ceste vanno da paura ragazzi non so veramente che altro dirli sono perfette comunque fatta questa ceste devo fare una situazione particolare con questa logistic pipes mi spiego sapete che qui vi ho spiegato che il provider ho messo sotto tramite la piede può provvedere ai macchinari che hanno bisogno di di carbonella o qualunque cosa sia macchinari o no qualunque cosa siano si può provvedere a loro in questo caso questa zona che mi sembra la più inutile la dedico alle ceste adesso mi prendo un bel cavo della ped della telapia della logistic ormai ragazzi le mischi li confondo perché noi sono la stessa cosa per me l'app del logistic non hanno più differenza per me ok prendo un bel cavetto lo tiro fino a questa ceste e gli metto una bella supplier di quelle attive però non un modulo non passi supplier ma un supplier logistic non il passivo non vi sbagliate non il modulo passive la pipe attiva e gli metto un bel settaggio che voglio un po qui non uno stack non due non tre non quattro non cinque ma ben sei o anche sette o anche otto stack di carbonella permanenti all'interno della cesta ragazzi io voglio che questa cesta abbia sempre all'interno otto stack di carbonella e mi piace questa cosa certa effettivamente potrebbe anche non prendere tutti questi stack però dettaglio vediamo un po se funziona ok ragazzi dovrebbero arrivare otto stack di carbonella perfetto meglio di così non so che dire ovviamente ragazzi la logistica limitata non è veloce come l'app ed infatti adesso andrò a mettere un'altra supplier facciamo doppia supplier ragazzi impianta doppia supplier perché non è abbastanza veloce sapete non mi piace non vanno abbastanza veloci se due supplier non posso aiutarle devo andare doppio per forza ok devo mettere la stessa cosa qui e mettere tanta carbonella perché tutta questa carbonella ragazzi perché per far partire il nostro boiler ci vuole talmente tanta carbonella che non è non è calcolabile c'è un numero talmente elevato che anche questa che qua dentro non basterà niente giusto ci farà tipo il solletico cioè tu lo attacchi consumerà tutta la carbonella che sta nella chest e avrà fatto nemmeno un tick non sarà salito nemmeno di un grado ci vorranno almeno 10 chest come quello per farlo salita una decina di gradi per dire ogni chest un grado sale è vero non sto scherzando è proprio così funziona il boiler all'inizio consuma un botto e poi lentamente lentamente comincia a riprendersi comunque adesso io vado laggiù e vi faccio vedere dove voglio mettere il boiler sì ma prima di farvi vedere la nuova zona ragazzi mi voglio attrezzare e sto prendendo tutto il materiale necessario mi sono craftato una power junction un acquist accumulator un chuck loader e basta alla fine nient'altro l'energy tesseract mi serve perché devo portare energia lì per ora perché devo accendere l'impianto quindi io metto il mio energy tesseract e poi lo setterò poi vi spiego come si setta e adesso me ne vado giù e piazzo tutta dovrei piazzare tutta questa roba in teoria madonna quanta roba c'è da pensare ma questo è il tank poi c'ho la chest poi c'ho le pipe per far parte il tank l'accus accumulator è un casino di roba serve non è da sottovalutare questo sistema e ovviamente ragazzi andate lì attrezzati perché adesso metterò farsi 60 km a piedi in mezzo di mostri in mezzo all'animale e se arrivate lì che non c'avete niente alla fine è un disastro vabbè ragazzi io potrei anche concludere qui vi saluto ci vediamo nel prossimo video dove starò lì nella zona di tank stanza laggiù in fondo in fondo un po' di pazienza e ci arrivo si qui ho fatto un buco un po' invece sono impegnata a farlo preciso guardate che foro perfetto che ho fatto ovviamente ripasserò tutte le pareti come ho fatto con l'altra zona le ripasso tutte col marmo fighe e carine appena c'è un po' di tempo magari faccio un live qualcosa del genere dove ripasso tutto e niente adesso ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti